Dovevamo ribaltare una situazione che ha generato nei cittadini tanta sfiducia nei confronti delle istituzioni. Siamo partiti subito, abbiamo elaborato delle proposte che sono state approvate dal Governo e portate all'approvazione del Parlamento. Un pacchetto sicurezza con delle norme molto dure, con delle norme che finalmente fanno dire che le leggi vanno rispettate da tutti, non solo dai cittadini padani, ma soprattutto da chi viene da fuori. Cosa che finora non era mai avvenuta. Abbiamo scelto di dare potere ai sindaci, perché i nostri sindaci sono bravi, sono capaci, hanno voglia di impegnarsi. Tutte queste iniziative che vanno nella direzione giusta, che cominciano a far capire che la musica è cambiata in materia di sicurezza, hanno suscitato e stanno suscitando, come era previsto, da parte di questa sinistra cialtrona una canea di reazioni contro di noi. Ci hanno detto di tutto, mi hanno detto di tutto, di più, insulti su insulti.